Siamo sempre al cantiere, vorrei andare sopra ma è un problema, che poi scende la scala, è tutta pericolante gente. Vediamo un po' se si può passare di qua. Dove? Guarda, di qua si può. Vieni. Bravo, grazie. Ma veniva bene, era bella. Ce la fai? Cazzo me ne prego e ci vedi. Guardate, questo è sopra. La porta di sotto? Già quando devo finire c'era messa la porta. Siamo nel giardino. Qui c'è l'altra stanza. Guarda che vista. E' una sedia. Chissà perché per soldi, per bu? Figurifero. Ah, i soffitti sono belli. Sì, è di legno questi, guarda. Qui a fuori, diciamo giardino in modo di dire. E' bello, peccato che non l'hanno finito. No, ma è meglio, dovevo buttarla giù però. E questo è cemento che belì. Ecco, pensavo che è tutto qua. Come ho? Come ho? No, due? No, due? Ci siamo olti... Grazie a tutti.